Fondazione Ircere in festa, arriva il Vescovo Marconi, Recanati accoglie con gioia il gradito ospite. Intorno all'illustre uomo di chiesa il presidente Moretti, il direttore del convivio Romoli, il sindaco e l'assessore ai servizi sociali Paolo Troni. Grazie, sì, veramente una bella giornata di festa, sia per la fondazione ma per la città intera. La visita del Vescovo Marconi ci riempie di felicità e di gioia perché viene a condividere con noi un pezzo importante della nostra società. Una bella realtà, quella presentata al Vescovo Marconi. Sì, abbiamo presentato completamente la nostra realtà che è formata fondamentalmente dalla casa di riposo, dalla casa protetta, dalla RSA e dal centro di urno Alzheimer. Ognuna di queste realtà ha i suoi numeri e la sua concretezza, quindi abbiamo 72 ospiti nella casa di riposo, abbiamo 12 presenze per quello che riguarda il centro di urno dell'Alzheimer e abbiamo 42-44 posti nella RSA. Si capisce come sommando questi numeri abbiamo un potenziale umano di estrema importanza e di estrema rilevanza ed è su questo che noi intendiamo lavorare, quindi dando la precedenza a tutti quegli scopi, a quelle finalità che vanno a potenziare l'azione della casa di riposo e del IRCER in genere. Ultime novità sull'attività dell'ente. Dunque, le ultime novità fanno riferimento al potenziamento del centro Alzheimer che è una realtà che è presente da noi ed è cogestita, cioè noi diamo alloggio praticamente a questo tipo di iniziativa che è organizzata fondamentalmente dalla regione, dall'Asur e anche dall'amministrazione comunale che mette a disposizione il personale OS per questa attività. Abbiamo finora affrontato una realtà che era di 10-12 unità ma il nostro sforzo vuole essere quello di allargarla, allargarla a un numero più alto, dare un orario maggiore di quello che stiamo facendo adesso e sicuramente nel tempo acquisire delle conoscenze e delle operatività che ci consentano eventualmente di portare avanti questo discorso anche in autonomia. I commenti del Vescovo sul convivio? Devo dire che c'è stato un apprezzamento totale verso questa iniziativa che lui già conosceva naturalmente. Ha visto la concretezza del discorso, c'è poche chiacchiere, molti fatti, la concretezza sta nel fatto comunque che si dà un servizio estremamente preciso e naturalmente poi abbiamo parlato anche insieme di quali potevano essere eventuali miglioramenti, eventuali correzioni a questo tipo di iniziativa. Devo dire che la chiacchierata è stata proficua anche perché cercheremo anche nel convivio di potenziare questo servizio migliorandolo anche sotto certi aspetti. Per esempio siamo convinti che ci debba essere una rotazione all'interno di coloro che fruiscono del servizio stesso e che eventualmente noi stessi potremmo chiedere una restituzione in termini di operatività da parte dei fruitori stessi. Quindi un'eventuale proposta potrebbe essere quella di farci aiutare dagli ospiti del convivio nelle piccole operazioni che tornano utili alla casa di riposo, uno scambio quindi di favori possiamo dire l'un l'altro. Natale meno consumistico del solito, riscopriamo forse gli antichi valori che si vanno perdendo? Decisamente sì e le parole del Vescovo sono state indirizzate proprio verso questo tipo di proposta quindi una maggiore concretezza, una maggiore serenità e se c'è la possibilità di scambiarsi reciprocamente un aiuto ben venga.